Nella vincidente alle 5 di questa mattina sulla via Ostiense 1693, nel sinistro sono rimasti coinvolti un autobus di Roma TPL della linea 017 e un'automobile Nissan Qascai. Secondo le prime informazioni il conducente della Nissan, un ragazzo di 29 anni, è morto e l'autista è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Le sue condizioni di salute sono gravi, l'autobus era fuori servizio e per questo non si sono registrati altri feriti. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.